Buongiorno a tutti, siamo qui al Festival Geografia di Monfalcone con Silvana Corbatto, a cui oggi porremo alcune domande. Innanzitutto, come sta procedendo il festival? Molto bene, c'è tantissima risposta, tantissime persone, molto interesse. E lei invece in che cosa consiste il suo lavoro? Allora, io mi occupo da vent'anni dei servizi culturali, in particolare della Biblioteca Comunale di Monfalcone, che è un luogo bellissimo da cui è partita l'idea anche di questo festival. E inizialmente com'era l'idea di questo festival? Da cosa è nato tutto? Come Biblioteca di Monfalcone abbiamo sempre pensato che il libro dovesse essere, oltre che un interesse, un approfondimento, anche una possibilità di condivisione. L'iniziativa è nata nel 2016 con la prima edizione di Books in the City, ossia il desiderio di coinvolgere la città nel libro e nella lettura. Poi grazie all'alleanza con Pordenone Legge si è realizzato tutto questo. L'idea di fondo è quello però di coinvolgere la cittadinanza nel libro e nella lettura. Tra l'altro lei è il tutore aziendale di Noi Giovani Ambasciatori di Geografie. Come si trova a lavorare con Noi Giovani? Molto bene, grazie. Mi date tanti spunti, suggerimenti. È sempre bello avere un punto di vista di persone giovani che possono in qualche modo accrescere e migliorare il festival. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti.